allora vediamo un po questi sono i preparativi questa è la radio posizionata sulla frequenza questi sono i dati del del satellite pronti ad essere utilizzati alfa oscar 85 qui arriva messaggi a gogo e sono in juliet oscar seven zero francia alfa aspettiamo tra qualche minuto l'arrivo del del satellite questa è la mappa dove sono situato in questo momento tutto qua